Ora un po' si vede, ora un po' si vede, sono letto per la coerenza che abbiamo portato in Parlamento e questo si farà a te. Tanto iniziamo a far funzionare il Parlamento, è quello che ci preme, perché la Costituzione dice questo, poi si va avanti. Molti dei delettori del PD che ci vengono a parlare votano che noi prendiamo la fiducia, le persone con cui abbiamo parlato hanno la volontà completamente opposta di rimanere in coerenza nelle cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Grazie.